Allora, un bista da preparato ovviamente, ma prima di concludere sarebbe bene presentare gli strumentisti uno per uno, così ricevono un po' di applauso singolo. Allora, ai flauti abbiamo Marta, Lisa, Susanna e Mariangela. La ventina è al tempo. Ai clavinetti, Massimo, Stefano, Simone, Luca, Alberto e Valentina. Al sax soprano, Elena. Ai contralti di Gabriele, Marcel Valpere Biagio. Al tenore, il nostro carissimo Cavagnoli, Livio Cavagnoli. Alle trompe Giancarlo, Pietro, Thomas e un altro Pietro. Ai corni, Giovanni e Fabio. Ai tromboni, Jean Paul, Marco e Daniele. Ricorno baritono, Lorenzo. San baritono, Paolo. Alla tuba, Giovi. E Matteo, il passo elettrico. Per Corsioni abbiamo Paolo. Fabio, Davide e Giuseppe. Io sono Stefano.